video un po particolare quest'oggi faccio vedere questo cavetto che da un lato è un connettore di alimentazione interno di un vecchio del computer del che mi serve applicato per l'interesse di questi pin e la forma che ha per evitare di invertirlo dall'altro lato invece abbiamo i pin normali tipo quelli di arduino tanta gente ha fatto delle truffe disumane con questo che ha detto qua e ora vi faccio vedere cosa serve disco fisso seagate se guardate sul retro c'è un connettore molto molto simile a quello che che è quello di debug come vedete connettore alimentazione sata dati e poi c'è quello di debug che quello lì che è quello da cui arrivano i log e con cosa è quello con cui ci si interfaccia fisicamente con il con l'elettronica interna del disco fisso se andiamo a vedere il cavo interno della dell è molto molto simile se no bisogna attaccarsi dei pin o trovarsi altri cavi di questo tipo qua particolari per fare il lavoro allora questo cavo qua è principalmente solo un cavo seriale quindi massa ricezione trasmissione che vi farò vedere anche sovra impressi sul connettore ok e consiglio se dovessi fare questi esperimenti di non usare la serie all'interno del pc quindi delle schede madri edifissi e neanche queste schede aggiuntive perché non lo so non funzionano mai c'è qualche problema serve un convertitore seriale il solito usb seriale il ch 341 normalmente che quello che trovate in quasi tutti i programmatori di bios o anche sui cavi per la programmazione seriale delle vecchie schede arduino le nano erano non mi ricordo più che hanno solo la programmazione seriale per cui dove prendere questo cavetto da usb a seriale per scrivere il software sopra le arduino nano non mi ricordo più se siano le nano mi sembra di sì comunque quelle che non hanno il connettore micro usb e non hanno usb allora io normalmente uso questo che tanto è un vecchio programmatore di bios che costa pochissimo se volesse comprarlo la conversione seriale usb di questo va benissimo proprio va proprio bene se andate a vedere sulle serigrafie vedete nella parte bassa abbiamo txrx ground che è la comunicazione seriale ovvero dal ch 341 abbiamo un modo di tramite quei tre pin collegare un dispositivo seriale ecco qua collegati e ora vi faccio vedere che questo oggeggio qua si collega qua nel diaretano nel disco ora andiamo a vedere sulla parte del pc cosa può venirci utile questa cosa colleghiamo all usb del pc il nostro convertitore seriale che non useremo assolutamente come programmatore bios non solo come conversione seriale andremo a settare la porta creata a 38.400 baud eccola qua la ch 341a com 12 ho messo già i driver ce l'avevo già perché li uso quelli del programmatore di bios monta gli stessi 38.400 l'unica variazione da fare questa 38.400 e non 9600 che quello di base una volta fatto questo collegare il nostro disco normalmente come disco dati facciamo una rilevazione stai installando perfetto adesso andiamo a dare macchiazza nella situazione con lo smart allora western digital seagate ecco qua abbiamo seagate andiamo a vedere ore di funzionamento pochissime 1141 gsense 0 un correct table sector count 1836 1836 è una cifra pazzesca quindi questo disco sicuramente non ha il sensore gsense funzionante o attivo ha preso qualche botta e si stanno danneggiando tutti i settori infatti a 1100 ore e prendenti inutilizzabili anche il relocation sector account 59 una catastrofe proprio una catastrofe di disco una vera schifezza con molta probabilità da anche un errore di smart proprio collegandolo fisicamente al pc in fase di boot andiamo a lanciare un terminale comandi putti normalmente il più più comune se usate linux ma ho già un profilo com 12 38400 se non rifacciamo un attimo a mano settiamo 38400 connessione seriale com 12 vediamo l'ok open e apriamo il terminale comandi di putti ora andiamo ad lanciare il connettore seriale il nostro disco fisso collegato e poi andiamo ad alimentare vi faccio vedere alla mente qui attacco l'alimentazione sperando di riuscire a far tutto con una mano vi faccio vedere lo schermo ma vedete avete c'è un parametro di reset comunque qualunque non so se si chiama rst e rimane in questa modalità che possono apparire diversi messaggi in base al tipo di disco fisso arrivati a questo punto quindi quando avete questa visualizzazione vuol dire che avete azzeccato il transfer rate i baud giusti quindi 38400 sui dischi elettromeccanici grandi in genere 9600 per questo caso faremo quelli dei notebook erano i più utilizzati per questi scopi a questo punto premete sulla tastiera control z è entrata in una modalità di inserimento dati interna del disco fisso seagate qua ci sono vari sotto menu e sottolivelli noi ci interessa il livello 1 che se per entrare bisogna inserire il slash 1 quindi slash 1 invio entriamo nel livello 1 dei comandi qua nel livello 1 c'è uno molto importante che è n n maiuscolo 1 e n maiuscolo 1 andiamo battere invio ora ora andiamo a staccare l'alimentazione del disco che già messa malissimo la stacchiamo stacchiamo l'alimentazione collegare il cavo dati alimentazione rilevano hard ecco il disco riapparsa smart segui ora andiamo a vedere i dati smart e come vedete abbiamo ore di funzionamento 0 hardware cc 0 current pending 0 tutto 0 anche dai gradi come vedete solo 21 gradi vuol dire che è appena iniziato abbiamo resettato i dati smart che sono una sorta di tutela per chi acquista un pc di non avere un disco danneggiato è impensabile che chi ha un negozio per esempio resetti i parametri smart di un disco sapendo che gli dovrà dalla garanzia che quindi se il disco era mal in cattivo stato già funzionavano malissimo già da nuovi questi dischi non ho mai sopportato gli elettromeccanici sono proprio delle porcherie sono passato ssd appena ho potuto è impensabile che un disco che già di serie di natura appena nasce magari ha già qualche problema perché è stato sbattacchiato e cascato durante la catena di trasporto e di vendita ancora prenderne uno vecchio magari di 20 mila ore 10 mila ore e rese tagli parametri smart vuol dire al cento per cento avere problematiche computer che si è venduto e dover comunque poi sostituire in garanzia il disco quindi inapplicabile perché un negozio invece era abbastanza applicabile per chi faceva delle vendite online di pc in cui magari il cliente finale non aveva voglia di fare il rientro in garanzia o magari su dischi che praticamente uno si fidava che magari avevano solo mille ore venivano azzerati a zero questo può anche essere adesso vi faccio vedere anche su un disco da tre e mezzo un disco da tre e mezzo seagate sempre questo disco funzionante non penso abbia dei parametri sballati da 250 giga lo colleghiamo per vedere prima di tutti i dati smart ok vengono qua seagate vediamo i dati quali sono sono 5.900 ore 0 settori persi quindi questo qua per niente non ha problematiche di è stata una buona temperatura 20 gradi è stato tenuto nel migliore dei modi ci sono degli cc recovered e anche dei read error ma questi li ho visti anche su dischi nuovi praticamente vederli crescere ciclo continuo non inficcia sicuramente il funzionamento però c'è qualcosa che già è brutto da vedersi in apriover allora stesso discorso però in questo caso dobbiamo andare sempre sul nostro programma di gestione seriale aprire una porta com a 9600 baud come viene proposto qua andiamo a collegare il cavo seriale come vedete stessa interfaccia ok colleghiamo il connettore lanciamo prima il terminale ok colleghiamo ecco qua abbiamo già dei dati che arrivano stesso discorso contro z entrato in uno diverso terminale proviamo entrare sempre nella sezione 1 perfetto come vedete stessa cosa ma siamo parlati sempre di seagate e poi andiamo su n 1 anche qua questo è molto più parlante rispetto al disco da due pollici e mezzo si sente un rumore sul disco fisso tanti di voi probabilmente conoscevano già questa procedura comunque per chi non la conoscesse spero sia stato interessante